Zona Fatima a Milano, il sole sta calando, come si dice si allungano le ombre della sera sulla città, ma noi ci siamo, ci siamo con un punto PD in un giardino pubblico, alle spalle appunto vediamo la parrocchia di Fatima, carnevale si vede anche a bassa la testa Francesco, vedete le conseguenze della festa di oggi. Francesco allora che clima si respira secondo te ormai a una settimana, anzi meno di una settimana dalle elezioni? Ma io penso che ci sia confidenza comunque in una forza politica che in questi anni su questo territorio ha dimostrato di esserci sempre, col sole e con la neve, per cui la gente ci ha preso in simpatia e anche oggi ce l'ha dimostrato, forse è complice il carnevale ma noi lo prendiamo comunque in positivo, i segnali di accettazione e di considerazione per l'attività che svolgiamo sul territorio. Un'attività che deve continuare per altri cinque giorni perché di fatto tanti mancano al voto e soprattutto c'è un tema, Milano e le zone limitrofe danno dei segnali positivi riguardo la partita regionale, riguardo le elezioni più in generale, però c'è un tema che altre zone della Lombardia sono più problematiche, quindi lo sai Francesco che da Milano e zone limitrofe bisogna recuperare i voti che servono per ribaltare la partita nel resto della Lombardia? Ma noi veniamo dall'esperienza di Pisapia per cui con molta modestia siamo anche abbastanza forti di un'esperienza pregressa che ci ha dato anche qualche soddisfazione dopo anni di palestra politica, per cui col sorriso sulle labbra andiamo incontro alla gente e poi vedremo anche il giorno dopo delle elezioni di essere ancora sul territorio a vedere quelli che sono i problemi, quello che si può fare, a cominciare dalla zona, dal Consiglio di zona, dal Consiglio comunale e su su, poi vedremo nelle nuove articolazioni del decentramento amministrativo. Sono migliaia i punti come questo in tutta la Lombardia, nella giornata di oggi, nella giornata di domani, nei prossimi giorni, insomma l'entusiasmo c'è e devo dire che non vedo tanti altri partiti così presenti sul territorio, nei mercati, per cui forza e coraggio. Sapete cosa dico? Io ti offro una bella caramella Ambrosoli. Io la accetto volentieri. Bene, ecco, e mi raccomando, oltre a offrire le caramelle a Ambrosoli, offriamo Ambrosoli come presidente per tutti i Lombardi, perché è l'unica prospettiva che ci può davvero aprire al futuro, mi raccomando. Viva Ambrosoli!